Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, oggi video diverso dagli episodi della carriera perché oggi visto che siamo arrivati a 152 iscritti che per voi sono pochi, nullità assolutamente sì, però siamo di più e siamo tutte persone esterne per cui vorrei per chi decide poi di guardare la mia carriera che a me sta divertendo molto e questo è un punto centrale della questione a me diverte molto portare la carriera, spero che stia piacendo anche a coloro che la stanno seguendo e siamo 152 per cui voglio dirvi da dove nasce l'idea New Ponton, che cos'è il New Ponton e il progetto fino a 2 voglio arrivare con questo progetto e poi concludo con voi che magari lasciate like, vi iscrivete, commentate e soprattutto commentate perché è importante per me avere un confronto sotto vari punti di vista il New Ponton, che cos'è? Il New Ponton ragazzi è la super creazione della squadra e del posto in cui abito che è un posto mistico perché sta in mezzo a nulla ma in mezzo a tutto, sta lontano da Roma ma non troppo lontano dal mare ma non troppo, lontano dalle altre città ma non troppo, è un posto veramente che esiste e non esiste la bellezza qual è? Che sono cresciuto qui, che ho creato tante amicizie qui e c'è sempre stata nell'area la cosa di creare una squadra con il nome della nostra frazione perché non può chiamarsi neanche paese perché è troppo piccolo, l'ho creata su FIFA e sta avvenendo una bella carriera, onestamente mi sto divertendo tanto è un progetto che porterò alla conclusione sicuramente al 100% poi indipendentemente da quello che accade il prossimo anno, se ci sarà FC, se ci sarà FIFA, non si sa che cosa creeranno il prossimo anno è un progetto a massimo 5 anni, massimo 5 stagioni, quindi sono partito dalla prima in cui eravamo in Serie B vi consiglio di recuperarla perché ci sono state delle cose clamorose all'interno di quella stagione e dovete vedere soprattutto dove arriviamo perché non è che gioco e vinciamo tutto anzi, ci sono delle sconfitte che ci segnano e ci fanno del male ma ci aiutano a crescere Serie B, poi abbiamo fatto una stagione in Serie A, adesso siamo alla terza stagione la seconda in Serie A e siamo approdati in Europa League, vi spoilerò solo questo per chi non l'avesse vista vedete gli ultimi video perché sono super divertenti, soprattutto dal momento in cui siamo riusciti a passare poi ad una competizione importante europea come l'Europa League che proveremo a vincere l'obiettivo è chiudere quarto e quinto anno, cercare di vincere sia la Champions League che la Serie A è una cosa difficile perché gioco a difficoltà estrema, non gioco a FC praticamente più solo se non per fare la carriera, quindi diciamo che le partite sono combattute, non è che stravinco anzi, e quindi è tutto molto realistico, tutto molto divertente, tutto molto realistico tra virgolette perché ripeto, ho creato questo new ponton che deriva proprio dalla frazione in cui vivo gli obiettivi, gli obiettivi, ve l'ho detti, quali sono per quanto riguarda questa carriera più avrò riscontri da parte vostra, più vedrò a fine percorso quanti iscritti siamo arrivati, eccetera avrò possibilità di prendere in oggetto tutto e poter decidere poi se continuare, non continuare, finirla qui sicuramente rimarrà tutto disponibile online perché è un percorso questo di miglioramento sia sotto il punto di vista anche della telecronaca perché è un mondo molto interessante che provo a fare, sperimento cosa sono in grado di fare, è molto difficile onestamente e anche rimanere seri, però è divertente, quindi è un percorso che mi sto portando dietro per tutti quelli che si divertono e la guardano, ricordate di lasciare like perché è una cosa molto molto importante iscrivetevi, questa è un po' la storia del new ponton, questo è quello che siamo, quello che sto creando e nulla, quindi io vi lascerei al prossimo episodio senza farvi perdere troppo tempo questo è il new ponton, questo è il progetto che spero di finire nel migliore dei modi spero, ho un numero in mente di iscritti a fine progetto spero di averlo raggiunto, qualora riesca a raggiungerlo è molto molto importante è molto interessante e mi porterà anche a prendere delle decisioni che possono essere poi effettivamente in linea con questo canale, quindi magari continuare a fare questo tipo di carriere eccetera porto anche Rainbow sul canale giusto per chiudere il cerchio, porto anche Rainbow Six Siege sul canale ogni tanto vedrete qualche clipettina per chi è interessato, sempre commentate soprattutto perché se a voi interessa una cosa è commentate e date dei riscontri positivi mi date la motivazione e anche la motivazione oltre la voglia ma anche proprio la motivazione di portare Rainbow Six, portare la carriera, portare quella, portare quell'altro ricordo che questo ha un secondo canale, ho un primo canale in cui parlo di calcio quindi già il primo canale è difficile da portare avanti perché poi lavoro, allenamenti eccetera quindi è complicato, però primo canale ne ho anche questo secondo per cui tutto il tempo che riesco a dedicargli è veramente tanta tanta roba e tanta roba in più quindi senza perdere altro tempo vi lascio agli episodi della carriera e like, iscrivetevi, bella